Salve amici fratelli della congrega, come state? Ci sono parecchi haters in giro, sostengono che abbia bisogno, ha bisogno, ha bisogno di un parrucchino, ma... A mo' di Matthew McConaughey di True Detective, stagione 1, e siamo arrivati a Reginaldo, no? Siamo arrivati a un nuovo look, io uomo restaurato, rinsavito, totalmente recuperato, probabilmente di lei, innamorato, e... sì... Un volto da copertina, la cover di Tiziano Ferro, di E ti vengo a cercare... E ti vengo a cercare... Perché senza di te io sto male... Voglio scoparti come un animale... Io rinascerò, chef di montagna... Allora, facciamo in serie e parliamo di un film triste, angoscioso, da paragonare e raffrontare Apocalypse Now. Poi Francis Ford Coppola avrebbe girato Giardini di Pietra, il post-Vietnam. Il Cacciatore è un film sul Vietnam, ma più che altro sulle angosce partorite, derivate, ingeneratesi, diciamo così, miei uomini degenerati, dai traumi inferti agli ex reduci. Io sono un sopravvissuto. Ma direi di partire da questo libro, che ovviamente io ho letto, ho anche analizzato, ho anche recensito, qui poi recensirò, il Cacciatore. Io sono Dante Alighieri, sono Dante Totò, dei soliti gnoti, adotto sempre il metodo Fu Cimino, perché Cimino non c'è più. Comunque questo è un bel libro, Big Jane. I miei tempi di lettura sono velocissimi, io sono Superman. Andava così veloce da avere la sensazione che in qualsiasi momento avrebbe potuto alzarsi in volo, i suoi capelli le volavano dritti all'indietro in una fiamma dorata di movimento. Sono un uomo dinamico, cibernetico, no, cinico, no, no, adrenalinico. Allora, la biografia di Michael, Michael Jackson? Sì, ma anche lui voleva, ecco, Michael Jackson voleva diventare bianco. Michael Cimino divenne, a forza di assumere farmaci, divenne, insomma, cambiò sesso, forse. Io sono sempre più simile a Mickey Rourke dell'Anno del Dragone, non sono alone, solo. No, verso il sole, San Cesaro. Eh, sì, sì, ha del miracoloso, del prodigioso, questo falotico, di nuovo gioioso. Dicevo, Year of the Dragon, è un drago, come dico una bologna, lui lì è un drago, eh. Allora, nota biografica. Proveniente da una famiglia borghese di New York, con ascendenza e emigranti dalle lontane origini laziali, sì, Cimino si dedica fin da giovanissimo allo studio di architettura, pittura, musica e letteratura, entrato con l'aperitivo, no, nel comparativo, no, nel competitivo ambiente pubblicitario dell'East Coast statunitese, e se ne diventa in breve l'unfant prodigio, realizzando numerosi commerciali di successo. Il passo verso Hollywood viene quasi per caos, ma le sue prime sceneggiature vengono acquistate e realizzate in pochissimo tempo. La regia d'esordo, gli viene affidata nel 1974 a Clint Eastwood, in quel momento la star più potente di Hollywood, una calibro 20 per lo specialista, ma dissero, se continui a vivere così Stefano farà la fine di Jeff Bridges, noi siamo sicuri, eh, eh, no, eh, che lo sceglie per un film d'azione imperniato su un'amicizia maschile tra un ragazzo e un delinquente di mezza età, ma ecco il secondo film, che Cimino entra di prepotenza nella storia del cinema, il cacciatore del 1978, io sono nato nel 1979, comunque questo film fu premiato nello stesso anno in cui io sono nato, no, perché gli Oscar vengono assegnati, diciamo, nei primi mesi dell'anno successivo, sì, 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 no, sì, sì, è successo, insomma, ma a me che è successo, non lo so, allora, mi disse, ma tu Stefano, fa l'ottico, sei un cesso, mio, passa su Hollywood con la forza di un vento impetuoso, da un lato fa incetta di Oscar, ma dall'altro solleva controversie, ancora oggi non sapete, avete capito? Guidate una roulotte, giocate alla roulette, russa, io non ruso più, mi sono svegliato, allora, Cimino però non ha tempo di godersi il suo momento di gloria, Concentrato con me nella difficoltosa lavorazione dei cancioli del cielo, Ava's Gate, ho raggiunto il paradiso, e lì c'è anche, c'è Jeff Bridges, no? E c'è il camion di Mick Rourke, quasi interamente girato nel Montana, voglio montarmi la testa, e allora? Sono montato, no, 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 voglio montare la mia, e mentre tutto il mondo si affretta a considerarla una delle opere più importanti, la cinematografia moderna, la casa di produzione rinuncia praticamente a distribuirli in America, la United Artists, che fra l'altro produce, finanziò, assieme alla Metro Goldwyn Mayer, io sono un leone ancora ruggente, Ronnie D. John Frankenheim, il fallimento, sì, 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 ah, sei un fallito, sei un fallito, io sono un fallottico, un uomo stravagante, faccio della bizzarria il mio stile di vita, il mio lifestyle, you understand? Distribuirli in America, determinando una catena di eventi che in breve porterà a un fallimento spettacolare dello studio. Per comunità, più probabilmente per una sconda reale responsabilità di manager del compagnie, Michael Cimino diviene il capro, espiatorio e naturale di una bancarotta che ha invece molti padri, mentre è sgarbi, molto sgarbato, da tutte le persone del capra, 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 emarginato dalla comunità hollywoodiana, Cimino si ritrova così ignorato in patria, emarginato, saccheggiato la sua dignità. Parassiti, questo secolo oramai è finito, saturo di parassiti senza dignità, mentre un europeco, solo tre film, l'attivo viene senza indugi, elevato a rango di maestro del cinema, come il maestro frango batiato. Tra difficoltà di ogni tipo riesce a realizzare negli anni successivi altri quattro film, L'anno del Dragone, 1985, 1985, il siciliano con Christopher Walken, Christopher Lambert, Ordi Spratt, Disparate Hours, c'è Mick Rourke, un grande Anthony Hopkins, Sanchez, 1936, anche raggiungendo un rispettabile, inaspettato, forse successo commerciale, ma sempre sollevando molte controversie, polemiche, no? Oggi ha 24 anni dal suo Oscar come miglior regista, best director, Cimino lavora ancora con lo stesso impegno, scrivendo romanzi e sceneggiature, dipingendo e facendo ricerca per i suoi progetti cinematografici, come un uomo rinascimentale, la cui creatività non è soggetto ai confini tra le varie discipline, forse più semplicemente come un artista. È uscito questo mio libro, La leggenda di Luciano Temerar, sto completando un libro, Bologna insanguinato. No, molta gente mi ricattò, perché a vent'anni, secondo loro, dovevo andare a consegnare le pizze per avere la dignità sociale e lavorativa, invece preferì seguire la mia strada. Grazie forse a Woody Harrelson, questo medico, diciamo, a differenza di molte persone, che giudicarono frettolosamente, lui riuscì ad entrare nella mia mente e, insomma, dalla scatturigia della mia rinascenza ripartì tutto il mio rinascimento, no? You understand? Allora, Dear Andrew, Allora, di questa masterpiece, inarrivoabile e superabile, come il tonno rio mare, come me. Bisogna amare, amare e ritornare. Il cacciatore, questo è il mio pezzo, i miei pazzi. Ebbene, per il nostro consueto, avevo scritto appuntamento che racconti di cinema, perché, no? Non sapete che vi dico? Stasera scriverò una recensione su The Straight Story, di David Lynch, ma serve vero, e anche la mia vera. La mia vita si basa su un accadimento che è dello sconvolgente di Real Life. Veramente è accaduto. Io fui decaduto e adesso sono di nuovo diciamo splendido e splendente e col sole nel mio cuore ancora ardente. Eh sì, non sono affatto un uomo invecchiato. Sono semplicemente riprecipitate nella realtà. Questa realtà che ci traumatizzano, ci opprime, ci deprime, ci malinconisce. E allora, allora andiamo avanti. Allora, vogliamo parlarvi esaustivamente, sebbene brevemente, di uno dei massimi inconfutabili capolavori della Settima Art, firmato dal grandioso compianto Michael Cimino. No, non abbiate rimpianti? Io? No, ma quale parrucchino? Non c'è nessun impianto. Quindi piantatela è chiaro? Ovvero del cielo barmone del cacciatore, di Joe Hunter, film della Universal Pictures, della United. Joe Biden è stato eletto nuovo presidente degli Stati Uniti. Su musica di Bruce Prink, no? È stato annunciato come vincitore da quella donna di colore, no? Ma che uomo di calore che sono? Di spontaneo ardore. È uscito sui nostri grandi schermi nel loro mai lontano in 1979. Sì, da un'Italia fu distribuito nello stesso anno di Nasht, no? Adesso qui c'è la mia Rinasht. Precisamente il 27 febbraio dell'anno appena suddetto. Dovete sudarmela? Un'opera magna, giustamente oscarizzata con cinque prestigiosissime statuette. Miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatur, o forse il miglior attore non protagonista Christopher Walk avrebbe meritato di essere candidato all'Oscar non soltanto per Catch Me If You Care di Steven Spielberg per prova a prendermi bensì anche secondo me per King of New York di Abel Ferrara o forse per La Zona Morta, no? That's All di David Cronenberg. Ok. Della lunga eppure appassionante durata di tre ore tre 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 Beach on the beach sotto solo la pelle brucia sotto la luna ancora di più a me questa recensione mi pare una strunzetta allora no vedete il sole il fuoco la passione no? l'essere di nuovo caliente vigorose ardimentose e bruciante di savoir faire vero? mia lei rapante eccitante probabilmente presto a meno che non possa venire a trovarti perché la tua sarà una zona rossa ecco dicevo ancora segregato in casa nel lockdown sei in fase down sei depresso sei stato depresso dicevo mi sono perso plebiscitoriamente definito una delle più belle in assoluto sulla sporca guerra del Vietnam sono un uomo ripulito smacchiato da tanti peccati ma dicevo posizionata in cima alle più rilevanti autorevoli classifiche riguardo i film maggiormente capitali del cinema mondiale e poi il capitalismo e sì e sì il complottismo il coronavirus e gli attentati terroristici e Bush bisogna uccidere Saddam Hussein sei nell'acronimo la guerra del golf il Vietnam è la seconda guerra mondiale no? e forse ci sarà una terza guerra mondiale se non risolveremo questa situazione pericolosamente internazionale no? globalmente insindiacabilmente riconosciuta come una delle più rilevanti comoventi riflessioni intimistiche sulla follia derivata da ogni sensata battaglia fratricida no? fratelli e non consiglieri fraudolenti ma dove siamo nell'inferno? eh? nel purgatorio ma vi spurgo tutti io vi depuro da ogni vostra macchia perché sono un cavaliere forse palido come Clint Eastwood senza paura sul mio pallore forse sui miei trascorsi pavori voglio essere un po' un gigione un po' un pavone fratricida la sua volta ingenerata metafisicamente mefeticamente dalla abominazione umana partorita dalle più queste faide no? no? dalle più false e assurde ideologie distruttivamente belliche non dovete avere idee bellicose non dovete attaccare il prossimo altrimenti si scateneranno delle guerre fra uomini facinorosi fra odiosi odiatori haters troppo troppo calorosi raffreddiamo gli animi eh? e qua dove da una donna le chiedi ti piaccio? non mi fai né caldo né freddo quindi rimaniamo in stato purgatorio forse in uno stato ascendente probabilmente penetrante in maniera suavemente suavemente brillante diciamo no? la brillantina il gel tutti i pazzi per Mary Mary Abel Ferrara Juliette Binoche Chekosh Chekosh la crema la brioche l'angosche oh l'angosche e fra le cosche diciamo diciamo deliziosamente ma quale ma Mary per sempre ragazzi fuori ma io sono un ragazzo sempre dentro ma basta adesso facciamo in serio la situazione lo richiede trama non tramate più contro di me you understand siamo negli Stati Uniti negli States per la precisione nella piccola nebbiosa e fredda Pennsylvania o in Transilvania lì fa freddo lì c'è c'è Gary Oldman del Dracula crepuscolare cittadina di Clarktown in Pennsylvania dopo aver festeggiato il suo festoso e fastoso patrimonio assieme ai suoi amici tutti operai di una ciaeria locale Stephen John Savage è morto è quella della sottolinea rossa che quella perde di Charles Malick e poi abbiamo un full metal jacket orizzonti di gloria no? di Stanley Kubrick obbligato a partire per la guerra vietnamita in compagnia di due di loro Michael che beve del whisky no rusky rusky detto Mike non Michael Douglas non Michael Cimino ma forse Michael si riconobbe in questo suo alter ego dei niriano Robert De Niro e Nick Nick Avall Nick no no abbiamo citato Cronome non Nicolai non Nicolai Vigmortensen della promessa dell'assassino no sono promessa promessa e Nick Christopher Walk qui ci sta il balletto su musica di di Moby 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 Dick sono un uomo da Neuro Satell non sono Fox e non sono Storpio sono un uomo risorto come Wonderful to the last temptation you understand allora tutti e tre sono di origine ucraina voi lo so siete dei puttanieri e quelli che dicono io sono un paroliere ma paroliere a me con la faccia lì sembri solo un puttaniere sinceramente parole 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 ma nei fatti e vai con le ucraine con le svedesi con le scandinave e torniamo al medico dei pazzi e che lì nello scandinato ci faceva una bella bottiglia di vino un po' di prosecco eh i miei uomini rinsecchiti vi vi i vi vi dico vi dico che adesso ascoltatemi e ascoltate il vostro battito cardiaco you understand allora dopo essere miracolosamente scampate le trocce di torture dei Vietkong Stephen Mike e Nick fuggono disperatamente alla volta dell'agoniata e sofferta libertà Braveheart anche lui ha girato Mel Gibson no? Ox of Reach fin sulla guerra quale? solamente però uno di loro Mike medagliato al valore così come a Rambo Joe Rambo riesce a tornare a casa sano e salvo però però fratturato seppur anche lui profondamente segnato Stephen rimane fisicamente offeso e finisce mi è offeso mi è offeso adesso mi arrabbio e sarò agguerrito contro di te no offeso ecco proprio fisicamente non psicologicamente finisce sulla sede rotelle mentre Nick insanabilmente traumatizzato dall'indimenticabile esperienza patita preferisce rimanere a Saigon e fra l'altro a proposito di Will Defoe c'è un bellissimo film Saigon sapevate lui che li si immole come Gesù Cristo nella locandina del Platone dell'Eston che fra c'è la terra lì c'è Tom Lejones io understand volete parlare con medicina faccio un culo così allora Saigon dove purtroppo oramai nebetito dalle droghe degli anestetici da qualche psicofarmaco troppo tranquillizzante da qualche neurolettico che l'ha reso così no cerebroleso troverà l'inesorabile morte sottoponendosi sciaguratamente per colpa di un'ennesima testarda fatalità letale al gioco della rule exus schiattando dinanzi agli attoniti terrorizzati e agorizzanti occhi di Mike stesso stesso no psicologicamente no 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 steso lì con Mary Scriep quella donna eh sì sì eh no Mary Scriep è un po' bruttina lasciamo stare innamorarsi falling in love non bisogna innamorarsi di Mary Scriep no 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 mi fa strippare è racchia è racchia non le toglieremo gli slip accorso nuovamente in Vietnam per tentare non accorso non stefano accorsi che cazzo dici signora in Vietnam per tentare di salvarlo vanamente una funebre memorabile allegoria elegia la storia vera è neology of slowness una legia sulla lentezza sulla riscoperta bellezza sulla tragicità della condizione umana che all'epoca in maniera uscinamente errona dai ben pensanti fu addirittura giudicata una pellicola reazionaria perché l'accusarono di descrivere in forma lapidariamente sbrigativa e razzistica ai vietnamiti ci siamo capiti ma dico ma dico ma che stai a dire cosicché se Apocalypse Now solamente un anno prima di venire istantaneamente una pellicola magnificamente allucinatoria lisergica e visionaria con la fotografia meravigliosa di Dante Spinotti no 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 di Vittorio Sturare Sturatevi il cacciatore e aprite gli occhi potremmo dire immediatamente ne fu il suo gemellare speculare simmetrico contraltare il rovescio della medaglia la medaglia non al valore vado la metafora dai asintomatica incarnazione in celluloide degli effetti devastanti provocati irreversibilmente dal ripelante Vietnam basta con le mostruosità io understand un ritratto spettale impietoso della sua abominazione ma va sempre da fare pesci le gullotte mio con Gino Vincenzo bellissimo il suo doppiaggio in deris me ne un film sentimentalmente monumentale sorretto delle strappetose prove dei suoi protagoniste dove permette nell'interpretazione di un tenere potente e calabratissimo di un walk in estate grazie e sì però è lì che è successa una disgrazia perché premiato infatti con l'osco con migliore attorno a un protagonista best actor in un supporting role chi lo supporta questo falotico non lo so spider spider Cronenberg mi dice ma tu sei schizofrenico spider io sto a posto e tu che non sei a posto spider e portamela quel cazzo di drink ti muovi come un vecchio ringogliorito qual è quello come si chiama quella pallecolo che boggart allora ehi è di un'ispirata delicatissima Meryl Streep che ha il suo primo ruolo davvero di spicco comunque questa Meryl Streep anche nel diavolo vesti prato è inutile che indossa la gona con lo spack perché spack come attrice però proprio qua non ho messo proprio è brutto è brutto è brutto forte Meryl in mezzo Meryl con la L la L di di lo vede il sole lo vede il sole quanto è bello ispira tanto sentiment è un film sentimentale ecco in mezzo a un cast Meryl non Meryl per sempre dai in mezzo a un cast altrettanto ineguagliabile di straordinari caratteristiche ma zunz 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 io sono esperto di Denir l'avete visto questo film The Bad Sea The Bad Sea anche qui qui riesce però a salvarla Denir è sua figlia non è sua amica qui c'è William Forsythe quello di Once Upon a Time in America e John Cazzo Cazzo che sta a che Meryl Streep non si salvò purtroppo da una malattia impietosa a quei tempi compagno nella vita reale della Streep il tutto illuminato della prodigiosa divina naturalistica fotografia liquida che è chiaro scorale la prima forse vigorosamente e al contempo è crepuscolare . io zig-zaggo a modo di si vestire in Saloni Kapland lì c'è Mo Till and Bob De Niro c'è anche Harvard Kittau Joe Page con bravi ragazzi non ho capito un cazzo quello che dico perché non posso dire tra la mia cultura e la mia velocità di pensiero tutte queste associazioni di stream of consciousness infatti sono uscito con questo libro lo trovate su Maggiurghetti del Libraria Online edito della Chimerica Edizione sulla Libraria Università sono fatta nella Mondatare Store ordinatele e fate una buona latura e non raffalate più fregature allora facciamolo a spelling Z S I G M O T Zig Zag, non Zagor quello è un fumetto che insomma fotografò il Lugadio è anche un fumetto così omonimo della Bonelli editori sì, editore allora di Dylan Dog Los Spaventi Pastori di Jerry Shetberg con Shetzberg con Gene Ekman il Cancellatore del Cielo dello stesso Cimeno Blow Out non Blow Up di MacLangelo di Blow Out di Brandt Palmer questa è la recensione molto bella sintetica con cheese qui tu sei stato circondi circondi allora vado 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 Michael Cimeno traduzione di Fulvio Calore Calore Paul Penz che Penz non pensi niente Penz con la Z allora tratto dal Donkey Shot qui c'è insomma queste strati che spesso si utilizzano all'inizio di ogni capitolo capito la mia bellezza non l'ho scelta io ma così com'è me la diede il cielo per sua grazia senza che io la chiedessi ne la scegliessi io non merito rimproveri per la mia bellezza per una donna veduta la bellezza come un fuoco lontano una spada affilata quella non brucia e l'altra non ferisce chi non si accosta Miguel de Cervantes periferia nel 1951 ogni cortile posteriore della cassa della Long Island somigliava Ross no 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 non Ross il team di Ross di Stray Store somigliava a quello accanto quasi in uno di questi la seconda settimana di ottobre un motociclista di 19 anni guardava con attenzione qualcosa le braccia incrociate dentro un vecchio giacone di pelle di serpente e una lucky strike in bocca allora facciamo strike torniamo forse a Jack Bridges i grandi bosch o forse mi ha detto da pervertito come c'è questa scontana c'è un turro uè ehi io prendo quel ferro e non perdetevi per strada Didier Antour Masterpiece good night and good luck un capolavoro vi è piaciuta questa mia recitazione questa mia immedesimazione trasformista un po' da gigione come Pacino un po' da piaccione come Mickey Roo un po' da bannerino come Chris 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 non Chris Chris Walken ficcatevelo in testa il genius pop che sono io giochiamarino e sempre e sempre un peperino ok inchino e un bacino ciao ciao